Ciao a tutti, benvenuti su Alkil, sono Sandrogan e oggi vi parlerò di Welcome to the NHK. In Giappone esiste un vero e proprio fenomeno di massa legato all'isolamento sociale, e da ben prima della recente pandemia, ossia il fenomeno degli ikikomori. Welcome to the NHK è una light novel, manga e anime che parla proprio di un 22enne ikikomori di nome Tatsui Rosato, che al suo primo anno di università si rinchiuderà in casa per via dell'ansia sociale e degli attacchi di panico e ci resterà per i successivi 4 anni. Welcome to the NHK è una storia che fa riflettere perché è spaventosamente reale ed espone una piaga sociale che affligge non solo il Giappone, ma ultimamente anche il resto del mondo. I temi affrontati nella storia comunque sono molteplici, non si limita a parlare solo del fenomeno degli ikikomori, ma anzi, l'autore racconta anche la depressione, il fenomeno dei suicidi di gruppo o gli schemi piramidali, tutte problematiche enormi nel sollevante. Allo stesso tempo però NHK porta un fortissimo messaggio di speranza, che può spingere ognuno di noi a darsi da fare per cambiare il proprio futuro, utilizzando i propri drammi interiori, grandi o piccoli che siano, come carburante per la nostra determinazione.